Ancora una tragedia della strada in provincia di Arezzo, ha perso la vita un ciclista, siamo a Lechianacce nel comune di Cortona, subito ha perso conoscenza, purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. La vittima si chiamava Pasquale Panichi, aveva 76 anni e viveva nel comune di Cortona, siamo a pochi chilometri dal confine con la provincia di Siena, l'incidente mortale si è verificato poco dopo le 13.30, l'impatto tra la bici dell'uomo e un'auto è stato purtroppo fatale. Il ciclista è finito a terra ed è deceduto pochi minuti dopo non riprendendo mai conoscenza, sul posto l'ambulanza e l'automedica del 118 assieme alla polizia municipale e ai carabinieri. Un tratto di strada rettilineo questo, in aperta campagna, molto frequentato dai ciclisti. Probabilmente un tratto del genere senza curve induce gli automobilisti a premere sull'acceleratore. Spetterà adesso ai carabinieri, insieme alla polizia municipale, ricostruire la dinamica di quest'ennesima tragedia. Grazie. 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 Grazie.